Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo il Quotidiano Repubblica, voi sapete che Quotidiano Repubblica è curiosamente schierato faziosamente verso sinistra. Secondo il Quotidiano Repubblica, che ha commissionato dei sondaggi anche sulle Sardine, secondo loro un elettore su quattro voterebbe per Mattia Santori e le Sardine. Racconta appunto una rilevazione fatta dalla Repubblica dall'Istituto Demos di Ilvo Diamanti. Addirittura il 27% degli intervistati si sarebbero detti disponibili a pronto e a votare le Sardine, mentre il 38% si sarebbe dichiarato favorevole alla manifestazione di piazza anti-sovraniste. Senza saperne leggere né scrivere, 27% per le Sardine, cioè più di un italiano su quattro voterebbe le Sardine. Mi sembra assolutamente illogico. Io non potrò mai credere a questo sondaggio. Cioè le Sardine avrebbero più voti del PD, avrebbero quasi i voti di Matteo Salvini. Mi sembra curioso questo sondaggio. Io personalmente non ci credo. Io capisco, attenzione, io capisco che il cliente ha sempre ragione. Chi paga bisogna dargli un suo contentino. Però siamo passati dal 12% che danno le Sardine addirittura al 27% è, a mio avviso, ridicolo. Cioè è inascoltabile una roba del genere. Però, secondo Alessandra Ghisleri, presidente di Euromedia Research, il Movimento 5 Stelle non va oltre il 5%, a volte dei lapsus freudiani, no? Altro che boom a doppia cifra, 12, 27, 32, 54, 63, no? Tutti voteranno le Sardine, no? Cantando Bella Ciao quando votano, ecco. Quindi, secondo un altro prestigioso istituto di sondaggi, valgono meno del 5%. Quindi, attenzione che il Movimento di Piazza è nato a Bologna per protestare contro Matteo Salvini, nato contro la figura di Matteo Salvini, cavalcato ovviamente dall'onda mediatica e dai giornaloni che non aspettavano altro che trovare qualcosa o qualcuno che era contro Matteo Salvini, per alimentare le loro bislacche teorie. I sondaggi si sono separati tra malnetto di tanto clamore e la sostanza è poca. Insomma, tutto fumo e niente arrosto, giusto per utilizzare un proverbio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e attenzione ai sondaggi, non credete a tutto quello che vi dicono, perché non è che perché è un sondaggio allora è reale. Ricordatevi il detto, il cliente ha sempre ragione, quello che paga bisogna sempre accontentarlo. Vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nel community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare. Siamo anche su Facebook Tele Italia Notizie dove trovate tutti i nostri video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata.